LUCACO ARAGIX Molto senza significato, senza fare cose importanti, però quando l'allenatore ti chiede di giocare comunque vuol dire che non ne ha un altro e crede sempre in un giocatore così importante, se no non ti chiede di giocare se non stai bene. Io penso che LUCACO sia uno degli acquisti migliori che potesse fare evidentemente l'Inter. Io non vedo in Italia attualmente un giocatore come LUCACO in nessun'altra squadra, né nella Juve, né nell'Inter, nel Milan, nella Roma, nella Lazio. Secondo me è uno dei più forti, a me piace moltissimo, perché ha forza, perché è il soggia di Zappata dell'Atalanta. Questi hanno qualcosa in più degli altri, non c'è niente da fare. E poi è un uomo che alla fine golli fa. E poi questo ti trascina la squadra, questo nell'uno contro uno ti uccide. Se gli vai contro cali per terra. O c'hai dieci banane qui per mangiare che gliele dai. O c'hai dieci banane qui per mangiare che gliele dai. O c'hai dieci banane qui per mangiare che gliele dai. E poi scivoliamo in una situazione davvero fuori controllo. Una battuta, eh? Sì, è venuta male. Siamo proprio andati oltre su questa cosa, anche perché è una situazione in cui, soprattutto in questo periodo, c'è grande attenzione mediatica. E quindi evidentemente, ovviamente ci scusiamo per quello che ha detto Luciano, voleva fare una battuta, gli è uscita male. Come si dice, mi corre l'obbligo di fare una precisazione importante come direttore di questo emittente. Questo oggi, oggi pomeriggio, è successo un fatto assolutamente imprevedibile, sicuramente non voluto, ma non per questo meno grave. Perché un nostro opinionista, parlando di Lukaku e cercando di definire la forza di Lukaku, la sua totale capacità di essere determinante, e quindi facendo una serie di complimenti a Lukaku, ha sciaguratamente scelto un'immagine pessima che poteva assolutamente dare spazio, legittimamente, a un'interpretazione razzista di Lukaku. Il razzismo lo abbiamo combattuto, lo combattiamo, lo combatteremo sempre da questa emittente. A volte anche con dei costi personali, abbiamo subito delle aggressioni e un attentato per aver stigmatizzato il razzismo allo stadio di San Siro. Non possiamo tollerare che anche involontariamente, anche senza rendersene conto, una persona che parla per ore e può, capita a tutti, dire delle cose sbagliate, delle cose imprecise, che una persona si possa lasciare andare a un commento senza rendersi conto che anche involontariamente può assumere e assume una valenza razzista. Con molto dispiacere non potremo più invitare qui questa persona, che è stato il primo a scusarsi, così come immediatamente Alfie Musmar, che conduceva, se era veramente ripreso questa frase, facendo il suo dovere di buon conduttore. Però ce ne scusiamo ancora, io come direttore me ne sento comunque responsabile, e l'unica cosa che possiamo fare, ho torto il collo, e non invitare più questa persona che per la prima volta in vita sua aveva usato un termine di questo genere, ma che noi non tolleriamo, non tolleriamo perché anche su una battuta si può in qualche modo ferire una cultura che deve essere senza sé e senza ma contro ogni forma di razzismo. Senza sé e senza ma contro ogni forma di razzismo. Grazie per la visione!